Ciao bella gente, benvenuti in mio canale. Io sono Amale e oggi voglio parlarvi di cannella. Cannella è già menzionata nell'altro video che ho fatto del rosmarino. Allora la cannella come voi sapete è una spezia che viene utilizzata sia nei piatti dolci che piatti salati tipo come il strudel che è una cosa meravigliosa. Comunque, allora la cannella ha tantissimi benefici sia per il nostro corpo che il nostro bellezza che il nostro benessere in generale. Allora la cannella ha origini della Sri Lanka. In tanti pensavano che aveva origine indiana o araba invece della Sri Lanka. I cinesi la usavano già nel 2700 a.C. come medicina. Invece i greci pensavano che ha dei poteri magici perché c'è una leggenda che narra che la Fenice usava i bastoni della cannella come bastoncini della cannella o la pianta credo, la pianta della cannella come base del suo nido e quindi hanno associato questo potere magico alla cannella. La Fenice, perché non la conosce, è un uccello mitologico che praticamente dopo la sua morte rinasce dai propri ceneri. Qui i giziani che la utilizzavano per l'imbalsamazione e c'è un re, un ferone che si chiama Tridate, la utilizzava come antidoto per vari veleni. Veniva conosciuta anche dai romani, dagli arabi e viene utilizzata tantissimo nei secoli la cannella. Aveva un costo talmente caro, talmente prezioso che nel medioevo i nobili, gli aristocratici la utilizzavano come simbolo di potere e di ricchezza perché la utilizzavano anche come doni a re e regine. Invece nel CQ100 hanno scoperto questo potere, un altro potere aggiunto alla cannella, che è la cannella un potere afrodisiaco e quindi miscelavano la cannella con latte tiepido e via alla festa perché lo usavano come viagra. Comunque negli anni 80 c'è una ricerca di un in Giappone che ha scoperto che la cannella ha dei poteri calmanti e rilassanti e invece la Russia University Center dopo tantissimi anni di studio ha scoperto che la cannella rallenta il processo di sviluppo della malattia del Parkinson. La cannella ha tantissimi benefici per, come ho detto all'inizio, tantissimi benefici per il nostro corpo, per il nostro benessere perché è antisettico, antibatterico, antiossidante, va bene per i problemi digestivi, va bene per i problemi intestinali, problemi che quando avete il stomaco gonfio, proprio per l'intestino gonfio, va benissimo utilizzarlo anche come tisana, la cannella va benissimo per il fegato, è un vaso dilattatore, attiva la microcircolazione della pelle, per quello va benissimo per la circolazione e anche per il contorno occhi, per borse e per occhiaie. Brucia i grassi e aggiungerla proprio ai centrifugati, io ad esempio facevo un centrifugato a vasi di ananas, limone, arancia, mela e cannella, fantastico. Per le persone che soffrono di diabete riduce il livello di glicemia nel sangue e anche riduce il colesterolo, quindi ha tantissimi benefici per il nostro corpo e quindi si può utilizzare in varie maniere. Allora per quanto riguarda la bellezza e il nostro benessere esterno, la cannella si può utilizzare per tantissime cose, per i capelli, per la pelle, per il corpo, ad esempio per il viso va benissimo per la pelle acneica, per la pelle mista, per i pori dilatati, quindi si possono fare delle maschere a base di cannella. La cannella secondo me è la copiata vincente, cannella e miele, facile, economica, fa benissimo alla pelle perché sapendo che è antiossidante, aggiungendola al miele che è idratante, lenitivo, anche quello è anti-invecchiamento, è una copiata fantastica. Per il corpo va benissimo per la cellulite, quindi in pacchi di cannella, ad esempio potete mettere cannella aggiungendo il miele, aggiungendo un pochettino di olio extravergine, fantastica, queste tre meravigliose, le mettete su, le lasciate agire per due ore e vi sciacquate e la pelle è meravigliosa, oppure potete utilizzarlo come scrub sia per il viso che per il corpo che per le labbra. Le maschere per il viso, come ho detto, miele e cannella che sono favolose, potete aggiungere ad esempio miele e cannella, aggiungete il yogurt o aggiungete il latte di cocco, la stessa cosa per il corpo, il latte di cocco come voi sapete, come ho fatto vedere nel video precedente, il latte di cocco è fantastico per la pelle. Mettete questi due insieme, è una bomba meravigliosa. Per i capelli, allora la cannella, sapendo che attiva la microcircolazione del cuoio capelluto, quindi va benissimo per togliere la forfora, come anticaduta per i capelli e va benissimo per la pelle grassa. Per la pelle secca, come la mia, io la utilizzo più che altro per la parte esterna come idratante, perché l'aggiungo con altri ingredienti, ad esempio puoi mettere la cannella con latte di cocco, aggiungendo olio extravergine. Se avete il burro di karité è fantastico, aggiungete tutto l'insieme e mettete un impacco che magari lo lasciate per due ore o per tutta la notte. Io ad esempio, come voi sapete, con capelli così io devo tenerli idratati, quindi maschere tutte le volte che devo lavarmi i capelli. Ad esempio se io devo lavare i capelli il sabato, il venerdì sera già mi metto una maschera per i capelli, invece la prossima e quindi la prossima volta che faccio una maschera ovviamente vi metto maschera a base di cannella. Dunque, ad esempio la cannella c'è anche come olio essenziale. L'olio essenziale di cannella va benissimo per assaggiare le gambe per i trattamenti per bucce d'arancia e per la cellulite. Oppure proprio prendete l'olio essenziale e aggiungete una goccia per la crema che utilizzate per il nostro viso, per la notte più che altro. Se non avete proprio la cannella in polvere ma avete solo l'olio essenziale, quando fate gli impacchi sia per il corpo che viso che per i capelli aggiungete delle gocce dell'olio essenziale. Io sinceramente non l'ho mai comprato, non ce l'ho perché ho questa quantità di cannella, quindi io la mischio e la faccio per tantissime altre cose. Comunque, la cannella si può assumere, come vi ho detto, nel yogurt, nel caffè, nel latte, come centrifugato, come tisana. Tisana, tisana, tisana che va benissimo per le ragazze che soffrono per problemi mostruali, mal di testa, mal di pancia, mal di muscoli, febbre, sai che sbalzi ormonali, va benissimo la cannella. Comunque, bella gente, spero che vi è piaciuto il mio video, spero che informazioni sono stati utili. E niente, alla prossima volta sarà un video sull'olio extravergine, le origini, informazioni, curiosità e tante altre, perché a me proprio piacciono. Spero che sono stata utile e seguitemi su Instagram e su Facebook, perché io tutti i giorni, o ci provo almeno, metto i vari trattamenti che faccio, mettete mi piace e seguitemi sul mio canale. Ok, ciao bella gente!